Vince 2-0 si aggiudica il derby casalingo contro il Fassano, riscatta la sconfitta del turno prepasquale a Barletta di mezzo allo svantaggio dal Casarano e dal quinto posto. Pomeriggio sicuramente positivo insomma per il team Altamura che torna a proporre una prepotente candidatura in chiave playoff. Prosegue invece il momentaccio dei Biancazzurri che incassano la terza sconfitta consecutiva. Padroni di casa a trazione anteriore, Prinari, più Sosa, più Molinaro, più Croce. Osservato speciale numero uno per la difesa dei Murgiani, inutile nasconderlo, Vincenzo Corvino il bomber dei Biancazzurri. Atmosfera surreale sugli spalti, si gioca senza tifosi per motivi di ordine pubblico. Le condizioni meteo inoltre non sono proprio delle migliori. Nonostante tutto però il primo quarto d'ora è abbastanza vivace. Buona chance in apertura per Gomez Forbes ma il portoghese del Fassano è impreciso nella battuta. Sale di tono poi l'undici di Antonio Rogazzo che ci prova con un'azione insistita. Croce a parecchia per il mancino di Cascela che calcia sul fondo anche per colpa di una deviazione. Tre minuti dopo però gli Altamurani mettono la freccia. Finta di Matera. Punizione di Prinari. Replica di Ceca che nulla può tuttavia sul successivo tapet in acrobazia di Croce per l'arbitro e l'assistente. La sfera oltrepassa la linea bianca. Padroni di casa in vantaggio. La replica per il collettivo di Vantisci non è granché. Corvino sbaglia la mira su calcio di punizione. Finale di tempo ancora favorevole e Murgiani. Sosa disegna forse involontariamente una parabola beffarda con il mancino. Ceca valuta bene la traiettoria. Proteste dei padroni di casa alla mezz'ora. Molinaro va giù in area avversaria ma l'arbitro lo invita a rialzarsi. Sulle sviluppi dell'azione Guizzo di Prinari che scambia con Sosa poi deve fare i conti con l'eccellente lettura difensiva di Di Vittorio. 1-0 all'intervallo. Ripresa che si apre con una punizione insidiosa da posizione decentrata di Prinari che però frutta solo un corner. Si fa male di Pinto costretto ad uscire in barella al suo posto. Dentro la Cassia attacca l'Altamura. Cole la calcia con il mancino. Ceca blocca allo scoccare dell'ora di gioco. Un minuto dopo Prinari pennella il cross. Croce non trova il Guizzo sul secondo palo. Il raddoppio e la doppietta personale per il 9 dei Murgiani arrivano comunque poco dopo. Ottimo il cross di la Cassia. Bello il controllo di Croce e efficace la stoccata con il destro che non lascia scampo a Ceca. 2-0. Team Altamura ed ottavo centro in questo campionato per il suo centravanti. Vittoria ipotecata. Il mio entrato sepe a metà frazione. Prova a sfruttare un calo di concentrazione degli ospiti ma il palo gli nega la gioia del gol e del colpo del KO. Prova a scuotersi il Fasano. Il mio entrato vantaggiato impegna così spina che rimedia in corner. Sulle sviluppi dello stesso calcio d'angolo il portiere dei Biancorossi ancora attento sul primo palo e dice di no ha vantaggiato. Massimo sforzo degli ospiti per provare a riaprirla ma un altro mio entrato lo Savio incrocia a lato. L'Altamura difende bene e gestisce con autorrevolezza il doppio vantaggio. Gli ultimi due sussulti arrivano in pieno recupero destro del solito Corvino sul fondo e poi ottimo anticipo in uscita di spina sullo stesso 10 di Biancazzurri. Finisce così 2-0 al D'Angelo per il team Altamura che balza quota 50 punti e si porta almeno due dalla zona playoff. Restano 43 invece. I punti del Fasano decisamente diverso da quello che ha stupito nel primo segmento di questo campionato. Domenica prossima Murgiani sul campo della cenerentola putiolana Biancazzurri al Vito Corlo contro la Fragolese.